Continua la mobilitazione del personale sanitario. Sono circa 200 i lavoratori che non hanno la certezza della proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre prossimo. I sindacati chiedono dunque la proroga fino a 36 mesi di tutte le figure sanitarie, tecniche e amministrative che operano nell'azienda sanitaria della provincia di Pesero Urbino. Questa mattina si è svolto a Pesero il primo dei tre sit-in annunciati per ribadire a gran voce le richieste rivolte alla Regione Marche. Siamo a chiedere di portare a casa questi contratti sia per i lavoratori con la vecchia legge Madia e sia per quanto riguarda i lavoratori che hanno lavorato, che abbiamo chiamato eroi nel periodo del Covid e oggi con un calcio nel sedere li mandiamo a casa. Oltre a questo chiediamo che ci sia rispetto dei contratti collettivi nazionali, ci sia rispetto per la fruizione delle ferie e tutti gli istituti contrattuali che i lavoratori che oggi sono presenti all'interno delle due aziende non stanno usufruendo. Oltre a questo non vorremmo che i lavoratori che continueranno a lavorare senza gli altri colleghi che andranno a casa si devono sobbarcare di moltissimi turni e sopraggiunti in base a questa inadempienza che la Regione ci sta portando. All'interno dell'area Vasta 1 e dell'azienda Marche Norda, poi ricordato a Uccello, c'è già una dotazione organica insufficiente da anni. Non ci possiamo permettere di mandare a casa altri lavoratori. Il rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza il 31 di dicembre è uno dei problemi al momento, il problema principale, ma non il solo. Rischiamo di perdere tanti professionisti che sono indispensabili per garantire i servizi alla cittadinanza. Sono professionisti che sono stati formati, hanno fatto la loro parte sul Covid e ora rischiano di rimanere a casa e quindi di non avere un reddito su cui contare. Ma la conseguenza più imminente potrebbe essere quella di una contrazione dei servizi sanitari da erogare alla cittadinanza nel prossimo gennaio quando avremo una nuova azienda sanitaria territoriale. Questo dobbiamo in qualche modo evitarlo e dire con coraggio che i cittadini della provincia di Peso Rubino devono essere garantiti gli stessi servizi sanitari all'interno della Regione Marche che sono quelli attualmente erogati dall'area vasta 1 dell'azienda ospedaliera Marche Nord che possono contare sugli stessi dipendenti. Non accetteremo il mancato rinnovo di questi dipendenti perché vuol dire appunto tagliare i servizi. Le organizzazioni sindacali che hanno già organizzato altri due presidi, mercoledì prossimo a Rubino e lunedì 20 al Santa Croce di Fano, si dicono pronte a procedere con ulteriori iniziative di mobilitazione. Abbiamo tentato in tutti i modi di confrontarci con le istituzioni per evidenziare le problematiche. ogni tentativo di confronto è fallito. Se non riusciremo a sciogliere i nodi delle questioni il problema sarà enorme, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, l'allungamento dei tempi per le liste di attesa, le rimodulazioni dei servizi sanitari, nonché il numero dei posti letto. Il problema è anche che la cittadinanza se ne accorgerà quando sarà troppo tardi. Insieme ai lavoratori siamo d'accordo nel continuare le nostre iniziative di mobilitazione, di blocco degli straordinari e in generale di ogni attività extra istituzionale.